Spifferi di calcio è presentato da Da oltre cent'anni, Casetti Arredamenti produce mobili su misura, in modo artigianale E oggi, come allora, si distingue per la precisione e la cura dei dettagli Visitate il grande showroom dove potrete vedere e provare di persona le soluzioni che cercate Ampia scelta di cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette e bagni Arredamenti e casetti, via Montanara 13, Casal Fiumanese, 0542-666-013 Dal 1993, la SARS è al vostro servizio per proteggere i vostri lavori È guidata da riconosciuti professionisti della verniciatura a polvere Che formano una valida squadra per la conoscenza della materia La SARS tratta giornalmente materiali ferrosi Ghisa, alluminio, zinco La SARS si trova a Casal Fiumanese, in via di Vittorio 10-A Numero di telefono 0542-666-383 SARS, dal 1993, al vostro servizio per proteggere i vostri lavori Amici sportivi, buonasera Spifferi di calcio in Vallata, speciale Natale con due super ospiti Non siamo allo zoo, però qui alla mia destra maffa la giraffa E la mia sinistra, Andreangolo Rango Li ringrazio, siete stati squisiti A parte gli scherzi, due grandi giocatori I miei ospiti per farvi gli auguri natalizi E soprattutto due ragazzi che sanno cosa vuol dire fare lo spogliatoio Fare del calcio, una cosa importante ma non la più importante Quindi per Spifferi di calcio dopo li smaschereremo Io vi rubo solo 5 minuti intanto per farvi gli auguri a tutti Vi ricordo che a gennaio ripartiamo con il girone di ritorno E soprattutto per ricordarvi che il Castelderio in Coppa Ha battuto la Libertà Sillaro 6-0 Stasera si gioca il ritorno ma noi andremo in onda Venerdì prossimo, quindi il Castelderio ci ha messo già un buon passo per la finale regionale Vi ricordo anche che la classifica che adesso vado a prendere Scusate un attimo Per quel che riguarda il campionato Vedi il Castelderio a 26 punti pari al Placci Bubano In prima posizione, seconda categoria girone M Valsanterno Borgo a 18 punti a 17 punti e il Fontanelice Viltus Valsanterno a 10 Bene ragazzi, partiamo quasi subito con l'intervista Solo un piccolo break di mercato per ricordare che Strazzari passa dal sesto imolese Difensore centrale alla Viltus Valsanterno Quindi al Fontanelice per rinforzarsi Per cercare di venire fuori dalla zona retrocessione Ricordiamo invece l'altro grande colpo del Castelderio Che ha messo sotto contratto Stefano Colli Difensore della Stella Azzurra per essere ancora più forte e più determinato Allora, se siete tutti pronti nel farvi gli auguri di Buon Natale Cominciamo le interviste con gli ospiti Maffa la giraffa, non poteva essere che l'ex giocatore di Borgo Tossignano e Castelderio Vuoi toglierti la maschera? Boh, vabbè dai Eccolo qua, è Massimo Marchetti E lo ringraziamo Benvenuto e grazie per l'invito Sei pronto per l'intervista? Sì, grazie Enrico di avermi invitato Sono contento di essere arrivato qua vivo con questo travestimento Visto i trascorsi dell'estate scorsa E sono contento di farti gli auguri a te e a tutti i tuoi telespettatori Per questo bellissimo Natale che anche quest'anno è arrivato Bene, dopo ti faccio qualche domanda sul calcio Perché sei un grande conoscitore della nostra zona Alla mia sinistra un giocatore con cui ho vinto il campionato di seconda categoria qualche anno fa Borgo Tossignano E che sta militando nella Tozzona in prima categoria Un grande attaccante Ma soprattutto veramente un ragazzo e un personaggio da grande spogliatoio Vuoi toglierti la maschera? Andreangolo Rango Non si vuole togliere la maschera Allora, te la tolgo io? Bene, allora togliamo la maschera Sei pronto, regista? Eccolo qua Andrea Zaccherini Sono il super bomber della Tozzona Allora Andrea Intanto, prima di farti domande Grazie per avermi invitato Allora come passerai questo Natale? A mangiarle banane o in generale? No, credo che lo passerò mangiando, bevendo Sì, insomma Allora, Zac è portato sul calcio Allora faccio un tanto una prima Ripeto, ringraziandovi perché Veramente siete stati squisiti Vorrei dirti Enrico scusami che sono arrivato così direttamente da lavorare Non ho fatto tempo a cambiarmi Quindi perdonami un attimo l'abbigliamento Però insomma Allora, io farei una cosa Siccome ti considero Tu sei un ex giocatore del Borgo e del Castel del Rio Questa volta ti faccio qualche domanda sul Castel del Rio Zacche che è un ex giocatore del Borgo Gli farò qualche domanda del Borgo Non ce ne vogliono il Ponticelli e il Fontanelli Se non ho ex giocatori Ma il Natale oggi va così Sai che sei veramente molto peloso Ti trovo terribilmente uomo con questa Sei pronto? Allora, cominciamo da maffo Allora, intanto Allora, voglio chiederti Tu hai giocato qualche anno a Castel del Rio Ti sei tolto anche delle grandi soddisfazioni in prima categoria Se secondo te il Castel del Rio potrà vincere il campionato Oppure sarà tirato fino alla fine come sembra Peraltro perché Bubano, Pontevecchio e Rainbow sono lì Ma allora, conoscendo un po' Castel del Rio All'ambiente e la voglia che c'è su di far sempre bene Il Presidente, tutti quelli che seguono Tifosi, le tifose Io credo che il Castel del Rio ce la possa fare Adesso io non sono aggiornatissimo su appunto Gli sviluppi di mercato Adesso hai detto che hai comprato qualcuno Sicuramente non vincerà in carrozza Però credo che rimanga favorito Ecco, insomma Io se dovessi scommettere qualche euro Via, glielo metterei, dai Ho un po' di erba da mangiare Ho un po' di erba da mangiare Visto che insomma adesso Prima mettiamo a posto la panza Poi dopo il portafoglio Allora, passo a Zacche Che come dicevo prima Si è stato un giocatore importantissimo In quell'anno che stravincemo il campionato a Borgo Quest'anno il Borgo è partito un po' con alti e bassi Dopo la delusione dell'anno scorso Ci sarà posto e ci sarà la prospettiva Di poter migliorare per il girone di ritorno O lo pensi già fuori dai giochi? Beh, ci sono poi solamente otto punti Credo da Lavetta Da Bubano e Castel del Rio Io penso che Con il recupero di qualche giocatore infortunato Che so che ne avevano Il Borgo possa rientrare in corsa Se non dovesse fallire gli appuntamenti Con le prime giornate Vincendo Io credo che possa rientrare subito Per la lotta per il titolo Bene Visto che voi adesso state vivendo Due realtà diverse Allora, maffo E scusatemi Come vedere il diavolo che va in chiesa Un giocatore come maffo Che va a fare gli amatori Perché ha avuto tantissime esperienze di categoria Allora Calarsi in una categoria molto inferiore Senza nulla togliere agli amatori Perché ognuno ha i suoi impegni Naturalmente ha i suoi problemi Fa le sue scelte Qual è stata la cosa più difficile Per adattarsi Oppure ti sei trovato bene E ti dico anche C'è un po' di rammarico Per aver potuto Trascurare un po' altre offerte di categoria O comunque sei contento lo stesso Ma allora Cose più difficili Magari all'inizio Le prime partite Capire un attimo Con compagni Come si muovevano Come dare la palla Anche perché Ce ne sono un po' di tutte le età Quindi devi un attimo Entrare nel meccanismo Per il resto Sono molto contento La squadra È simpatica È vivace Giochiamo anche Secondo me bene Poi vabbè Per la mia scelta Sono molto contento Perché comunque Mi alleno con Zac Che è la tozzone Da sotto casa Quindi comunque Mi mantengo in forma Alla fine Ho molto più tempo Diciamo così Libero Un campionato divertente E anche comunque Un campionato abbastanza mediatico Perché comunque ogni tanto Se ne parla Mi fa piacere E quindi no Tutto sommato Guardate ti dico Sono molto contento E soddisfatto E niente Adesso speriamo che Il giro di ritorno Di continuare come l'andata Perché Credo che Siamo i primi Mi sembra Perché anche lì C'erano dei recuperi Non lo so Però insomma Comunque Spero che vada avanti così E nel caso Vi do l'appuntamento Adesso mi tocco Le Ecco A Romeo Galli O alla Tozzola Non so dove farà La finale Amatori Se non ci saremo Da protagonisti Vi do appuntamento Lo stesso Perché sarò lì a vedere Vi offrirò un Vinbrulè Che a quel punto Della stagione Sarà fuori stagione Allora Per Zaki invece Ti sei migliorato Perché sei partito Dalla seconda Poi Dopo un anno Per problemi di studio Due anni Di problemi di studio Sei arrivato Alla Tozzola In prima categoria Squadra che lotta Per salvarsi Ma io ti sto seguendo Con grande attenzione Stai facendo tanti gol Stai facendo veramente bene Ti faccio quindi Complimenti Qual è stata Anche per te La domanda è Gli ostacoli più difficili Di questa prima categoria Oppure Te l'aspettavi così Meno forte Come la stai vivendo No la sto vivendo bene Grazie anche ai compagni di squadra La dirigenza Poi Il mister lo conoscevo Tanti compagni Alcuni li avevo Avuti da avversari Altri da compagni Come lo stesso Vallante A Borgo E No Sono tutto sommato Soddisfatto Perché comunque Dovevamo partire Eravamo partiti Per fare una seconda Poi siamo stati ripescati In teoria Si diceva Dovessimo Lottare Per Per salvarci E' chiaro Che uno punta sempre Più in alto possibile Secondo me Stiamo facendo bene Con Con i mezzi Che abbiamo Puntiamo sicuramente A fare un girone di ritorno Migliore Di quello d'andata E quindi Io Sono molto fiducioso In questa salvezza Bene L'ultima domanda Che la faccio entrambi Allora Siccome so che Ripeto L'ho detto all'inizio Non mi stancherò di dirlo Ma non per sviolinare Io quello che penso Lo dico Non perché sono stati Due miei giocatori La vostra forza È sempre stata Quella grande generazione Generosità in campo Lottare dal primo All'ultimo minuto E qualità tecniche Indiscutibili I grandi artisti Secondo me Hanno anche un briciolo Di pazia Perché voi avete Due caratteri Davvero molto espansivi E siete due persone Che quando Nello spogliatoio Si è insieme Si crea veramente Un'atmosfera Che il calcio Sì è importante Ma ci sono altre cose Più importanti Allora Per Maffo Chiedo A Castelderio Se mi vuoi raccontare Visto che parliamo Delle squadre Della Vallata Qual è stato Un episodio Un numero divertente Che ti ricordi Nelle stagioni Che hai fatto A Castelderio Beh sì Uno Forse Un po' più eclatante Che mi ha divertito Forse penso anche I compagni Quando Metà stagione Andai in Australia E Una sorpresa D'accordo Lo dici solo Col presidente Che Avevo trovato un volo Per rientrare Per l'ultima Partita Di campionato Praticamente Mi presentai su Alle due e mezza Appena arrivato Da Roma Con l'aereo Eccetera Tutto vestito In lino bianco Con delle orchidee Piantate Il mio bel trolley E Dopo praticamente Il mister Mi mise anche in campo Quindi fu un bellissimo Momento Di soddisfazione Di grande deficienza Che comunque È stato bello Condividerlo Con i ragazzi Capito Infatti Insomma Secondo me è riuscito Mi ricordo ancora Molto bene Una cosa che mi divertì Ancora di più Mio fratello Che uscì Incazzato Nel Perché non lo misero Su E mi fece giocare a me Quindi Dopo ne abbiamo riparlato Anche a caso Mi volevo uccidere Mi volevo rimandare via Però insomma Ero già stato via A sufficienza Insomma Questo È stato un bel episodio Un bel momento A Zac Allora intanto Anche a te Una domanda Un anno a Borgo Devo dire Fantastico Oltre a chiederti Un numero particolare Che hai fatto Io potrei suggerirti La bottiglia tagliata Col macete O che andavi in giro Nudo Con meno 5 Fuori dal campo Qual è stato Il segreto Di quell'annata Che penso sia Rimasta nella leggenda Nella storia del calcio Della nostra zona Mi ricordo Un episodio Molto molto A parer mio Divertente Nel quale c'è anche Il Castel del Rio E andammo a giocare In casa del Castel del Rio Vincemmo 2 a 1 Con un rigore Parato da innocente All'ultimo minuto Al quale mando i miei saluti E faccio ancora i complimenti Per quel rigore Ma soprattutto La parte divertente Fu nello spogliatoio Quando dopo La prima enfasi iniziale Così Quando si calmò Si calmarono gli animi Di tutti i giocatori Dalla zona bagno Si sentì Il mio caro amico Alla mia destra Pifferi Urlare da solo Le parole Non le sto a ripetere Era una dedica A un mister Era una dedica Diciamo A un mister Urlando Urlando da solo E Domandandosi Dove fosse Per Dedicargli questa vittoria E Niente La ricordo Molto divertito Perché Mi è sembrato Un matto L'ultima cosa Prima di Da parte mia Naturalmente Fare gli auguri A tutti quelli Che ci seguono Dirigenti I calciatori Della vallata Ma anche Agli avversari Noi siamo Una trasmissione Familiare La vostra presenza Qui Il clima Deve essere Quello Di serenità Quindi Anche a tutti I familiari Tutti i giocatori Tutti i dirigenti Che sia davvero Un bellissimo Natale Anche in un momento Di crisi Due giocatori Che sanno Essere divertenti Sanno essere ironici Ma due ragazzi Anche che hanno Il grande cuore Il vostro pensiero Per questo calcio Per il nostro calcio In un momento Economico difficile Dove ormai C'è spazio Solo per il risultato E non si sa Davvero più Cosa bisogna fare Per andare avanti Quindi un pensiero Di maffo Con un augurio finale Ai miei telespettatori E anche un pensiero Di zac Per i miei telespettatori Ma guarda Io appunto Come ho detto te Un momento economico Questo quell'altro Poi comunque Mi piacerebbe Che in calcio Italiano In genere Si desse molto Più spazio E si seguisse Si investisse Più sui settori giovanili Per farsi Diciamo così La cantera In casa E creare Giovani Per esempio Questa è una cosa bella Che sarebbe anche Per il nostro territorio Perché non so Come squadre Come limolesi Eccetera eccetera Anche se Crescessero tanti molesi In grado di giocare In certe categorie Magari anche più gente Va allo stadio Più gente Insomma Questa cosa qui Me la auguro Perché forse È il momento Come augurio Niente Io innanzitutto Ancora ti ringrazio E auguro A tutti I telespettatori Che passino Il 21 di dicembre Che hanno detto Che finisce tutto Nel caso Tutto non finisca Alla sera Facciamo una grandissima festa Alla Via Rose Vi invito tutti Free entry E dalle 11 in poi Si balla E si festeggia Alla sopravvivenza Quindi Televallata Ci sarà Televallata L'aspetto Zac anche per te Una riflessione E un augurio Per i tuoi tifosi I tuoi familiari Ma soprattutto Un pensiero Per questo calcio Che so che tu Comunque lo vivi Sempre con grande ironia Assolutamente Io Mando prima L'augurio A tutti Buon Natale Buon anno Diciamo Il pensiero Che posso fare Su questo momento È Giocare a calcio E Poi Comunque Per fare dei bei regali Ci sono delle Ottime offerte Tecnologiche Sia da MediaWork Che alla Comet E Invito magari A guardare il volantino Altro non posso dire Senti Parlo col direttore Brusa Che noi vogliamo solo Ricordare ai telespettatori Che il campionato Di seconda categoria Il 13 Partirà con l'ultima giornata Di andata Il recupero E Il 20 sarà fermo Il 27 si parte Col girone di ritorno In bocca al lupo a tutto Chiedo a Zac Di rimettere la maschera Chiedo al mio tecnico Brusa Di rimettermi un po' di musica Perché vogliamo finire Farvi davvero Tanti auguri Di buon Natale Adesso Il DS Ringrazia Questi due animali Abbiamo resumato Alexander Da Imola La giraffa E anche King Kong Che aveva avuto qualche problema Tempo fa Insomma Zac e Maffo Gentilissimi Io lascio lo spazio a loro Per un balletto Siete stati davvero Incredibili Lo sapevo Vi ricordo a tutti www.televallata.it Le vostre mail Buon campionato a tutti Vi lascio con Zologi Maffo E Zac Grazie Ci vediamo Alla prossima Abone Vino no, could we in?